appassionati di gossip tv bentornati nel mio canale oggi parliamo dell'omicidio di samana bas la ragazza pakistana uccisa per aver rifiutato di sposare un cugino proseguono le ricerche del corpo della ragazza e ieri la testimonianza del fratello sedicenne è stata cristallizzata dal jeep e potrà essere usata come prova in un eventuale processo a quanto pare il fratello di saman avrebbe rivelato ai carabinieri dettagli importanti sul luogo della sepoltura della ragazza oltre a questo ha confermato anche la sua versione dei fatti indicando come esecutore materiale dell'omicidio lo zio zio che risulta ancora ricercato così come i genitori della ragazza ad un altro cugino nel frattempo i carabinieri hanno intensificato le ricerche seguendo le indicazioni del fratello ricerche che si stanno svolgendo nella tenuta agricola in cui i familiari di saman lavoravano e vivevano per il momento è tutto al prossimo video ciao